un saluto e un abbraccione dal vostro titolo quale giorno rosso si è appena concluso il big match di serie b il derby tra benevento e salinitana splendida partita ben giocata è stata meglio questa partita ragazzi che juventus fiorentina mi son divertito un casino partita bellissima è stato un po maschia ci sono stati degli interventi un pochettino duri ma agonismo agonismo tra le due squadre ma è stata una bella partita ben giocata sia dal benevento che nella serenità anzi dalla salinitana dei ventuna non mi sarei aspettato questa questa partita e ricordiamoci che un mese e mezzo fa circa volevano cacciare ventura invece la salinitana ha fatto una bella partita pure il benevento è capolista secondo me già sta in serie a la salinitana sta all'altra le parti alti della classifica bella partita è la salinitana è andato in vantaggio con un gol dei durici però poi c'è stato il pareggio dei sau altre occasioni da una parte dall'altra e però poi all'ultimo c'è stata stata una partita maschia con degli interventi dei confuggerati poi c'è stata l'espulsione del importare ha fatto un fallo un fallo forse di frustrazione non si capisce cosa poi ci sono stati prima di questi falli pure i i fuochi d'artificio allo stadio tutti contenti io penso che siano tutti contenti io mi sono divertito in live io ringrazio tutti coloro che hanno seguito oggi la live le voglio bene ragazzi perché mi avete seguito e mi sono divertito con la mia famigliola di voi voi che seguite i miei video perché questo è il calcio deve essere una cosa bella ci siamo divertiti abbiamo fatto dei numeri straribanti oggi sul canale vi voglio bene vi invito ragazzi domani a seguire la partita tra pescara e cosenza eppure seguiremo il napoli con la sandone quindi mi raccomando bel derby ci siamo divertiti tutto bella partita avvalso avvalso guardarla è stata meglio di tante partite di serie a pure florentina è stato meglio di quella partita ci siamo divertiti tutti risultato tutto sommato giusto la salernitana ha dato cuore e anima il venimento è prima in classifica io vi ringrazio vi voglio bene a tutto vi invito come sempre ad iscrivervi al canale vi voglio bene ragazzi viva il calcio viva la sportività ci siamo divertiti ci divertiremo su questo canale italiano con le giallorosso godo come 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 un uomo felice vi voglio bene ragazzi ciao